Ciao, mi chiamo Mattias Caviglia, ho 14 anni, vengo da Massalengo. Ciao a tutti, io sono Lorenzo Borello. Io sono Luigi Borello. Veniamo da Anzio, abbiamo 15 anni. Mi chiamo Virginia, ho 16 anni, vengo da Milano. No. Sì. Sì, diciamo. Dio. Era il dio dei buddhisti. È un dio dei buddhisti, appunto. Degli egizi, dei cristiani. Era pesantato con un cerchio rosso in testa e un velo sopra la testa. Viene rappresentato oro e ciccione, con la pancia di fuori, e se gratti la pancia porta fortuna. Sabato? Non ho mai fatto. Giovanni Vascoli. Lopardi. Giovanni Vascoli. Lopardi. Non so cos'è il villaggio. Lopardi. Giovanni Vascoli. Giovanni Vascoli. Ti giuro, non l'ho mai fatto. Van Gogh. Un ra. Di... Romano. Quello che... Scoprissi... Scoprissi l'America. Non è scoperto l'America, è uno scienziato. È un uomo. La Svizzera. Svizzera. La Svizzera. Barzellona. Babilonia. Non lo so. Messico. E... Russia. Mosca. No, stas... Non sono storie capitali, dai. No, aspetta, Singapore. La Giappone. Un'associazione? È un'associazione che si occupa del bene degli individui all'interno del mondo. Della pace? È una cosa che si paga. È una via? Dove passare le mucche e mongono le mucche. Si trova nella nostra galassia? È una costellazione. Mirna, sicuro. Oro. E poi? Sale. Pani. Pepe. Pasta. Zucchero. Acqua. Cos'è? La luna. Una fiodo? Un tavolo. Luna è un recipiente. Ah no, la tibio. Qua. Qua. Me lo diceva la mia insegnante di danza. Devi abbassare la resta, Elia, perché era toscana. Qua. Non, non so. Non so. Non so. Grazie a tutti